Nel gioco di oggi ci servirà una bottiglia e un foglio di giornali. Prendiamo la nostra bottiglia e la bulgiamo con il giornale pienamente. Proveremo a dare, facciamo un bel giro con il nostro giornale, e proveremo con la nostra bottiglia a dare un colpo e vedere se riusciamo a farla sparire. Con una mano tenendo sotto il tavolo e una mano sopra, proviamo a far vedere che la bottiglia è comparsa, scomparsa dal giornale, comparsa da sotto il tavolo. Questo è un gioco della bottiglia che oltrepassa il tavolo. Ciao e alla prossima!